Verso il rimpasto della giunta Foti in pole position ci sono i nomi nuovi di Arturo Iannacone e Silvia Amodeo, il grande escluso sarebbe Nunzio Cignarella. Arrivano insomma le prime indiscrezioni sul nuovo esecutivo, verso la riconferma gli assessori Preziosi e Roberto. Si prenderà ancora una settimana il sindaco Paolo Foti per sciogliere i dubbi sulla nuova giunta difficile che arrivi con la squadra già al Consiglio Comunale di venerdì. Torneranno a lavorare con lui come detto Roberto e Preziosi e ci sarà anche la novità dell'assessorato alla trasparenza. Il Foti ter dovrebbe segnare l'ingresso nell'esecutivo di Arturo Iannacone che sostituirà Anna Maria Iandiorio, un cambio tutto interno ad Autonomia Sud, all'assessorato alle attività commerciali e produttive e Silvia Amodeo che dovrebbe andare a sostituire Nunzio Cignarella per quanto riguarda la casella dell'assessorato alla cultura e garantire così il rispetto della quota rosa. Come vice sindaco dovrebbe chiudersi l'esperienza di un rodato collaboratore di Foti come Stefano Laverde e al suo posto una figura femminile, quella di Maria Elena Javerone che si è ben comportata all'assessorato al bilancio. Infine da più parti si chiede un passo indietro al Presidente del Consiglio Comunale Livio Petitto, indagato nell'inchiesta a Parcheggiopoli. Sarebbe un ulteriore segnale di discontinuità rispetto al passato e in linea con il pugno duro annunciato dall'amministrazione comunale per l'affidamento alle cooperative delle aree di sosta in città.